Però alla fine ha fatto un buon inizio di stazione, ha fatto cinque gol, due con la maglia dell'Udinese, due con la maglia nostra all'Udinese per fare le cose giuste, più un rigore trasformato con cinismo nella passeggiata di salute veronese di qualche settimana fa. Io me l'aspettavo che Tero fosse Cignico sottoporta, un attaccante che ha sempre fatto vedere di avere il fiuto, di avere la giusta cattiveria sottoporta e penso che un giocatore del genere servisse, servisse tanto nell'economia generale del gioco di Piroli.